Aiaia, abbiamo perso la cantante Tutto qua? Tutto qua Un'ora vogliamo fare? Quello che vedete, come te, è un bicchiere dal quale è impossibile bere è sicuramente un bel bicchiere, potrebbe aiutarvi a bere meno vino ma è praticamente completamente inutile eppure la gente continua a comprarlo ed è uno dei bicchieri più venduti Secondo una recente ricerca, la metà degli oggetti che noi abbiamo acquistato sono oggetti inutilizzabili Allora la domanda è perché comprate? Perché io non compro, a me le cose le regalano io dico quello che voglio e loro mi ricomprano Io so perché voi comprate Comprate perché avete questo bisogno di colmare il vuoto di bestie compulsive quali siete Non è così? Ha ragione, ha ragione Grazie È vero, è vero, è vero Purtroppo anche adesso con lo shopping online diciamo che A me sai cosa mi salva? Che cosa ti salva? La povertà Eh, ma che scherzi Ma che scherzi Anche perché casa tua, essendoci già tu dentro, è piena di cose inutili quindi perché aggiungerne altre? Ma che c'entra? No vabbè c'entra 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 Cioè la domanda di stasera è Se comprare è un piacere, vendere è un'arte?